Navea una nave Mi porta da Puerto Natale Non ho il wifi Non so che succede da voi Conosco tanta bella gente Vedo questi posti bellissimi Ora vi faccio vedere Non ho il bastone però Si vedono Questa è la Patagonia Cilena Stiamo praticamente risalendo in Cile E spero di riuscire a Pubblicarvi questo video Quando arriverò a Portomonte Oggi è 21 Noi arriviamo il 24 Se trovo un ostello Se trovo un wifi Ciao